Sì, quello che mi risulta è che Pietro sia il più grave. Il sindaco di Isola Vicentina si era recato anche questa mattina nell'abitazione dei familiari di Pietro De Bernardini per offrire alla vicinanza della comunità e condividere le preoccupazioni. Pietro si era diplomato all'Iceo Lioio di Vicenza e dopo aver frequentato il corso di Ingegneria Matematica al Politecnico di Milano si stava per trasferire a Bologna. La drammatica notizia del suo infortunio in Norvegia non si era ancora diffusa nel vicinato e ha scosso i presenti. Con la macchina? No, no, con la valanghe, sono trovato da una valanghe, era un appassionato di montagna. Come l'altro ragazzo qua? Sì. Come Bari? Sì. Mamma mia. È un ragazzo tranquillo ma comunque sì, pieno di vita, un ragazzo normale insomma come i miei, pieno di interessi, sì, studiava, un bravo ragazzo insomma. Pietro sì, ben, è un ragazzo, come si dice, sportivo anche nel centro salsun. 26 anni in questo momento? 26 anni, speriamo che sia tutto bene. Arrivano con il contagocce le notizie dell'ospedale di Tromso dove tuttora è ricoverato Pietro. Molto probabilmente è stato tra gli escursionisti sbattuti contro gli alberi dalla valanga. Apparentemente cosciente le sue condizioni sono state definite critiche. i genitori si stanno preparando per raggiungerlo. Sono in contatto con l'ambasciata italiana in Norvegia e le notizie naturalmente sulle salute dei superstiti non trappelano in maniera facile dagli ospedali perché c'è una stretta legge sulla riservatezza. Comunque l'ambasciata si è dichiarata disponibile per tutte quante le pratiche per i parenti, per avvicinarsi ai congiunti e per i rientri necessari insomma. Grazie. Grazie.